musica cari amici benvenuti in questa nuova snapshot di minecraft ed eccoci nella snapshot 15w44 innanzitutto grazie ancora per tutti i fantastici commenti che ci avete lasciato sotto al nostro video memory camera rocket challenge grazie e ora siamo pronti a scoprire le novità di questa snapshot innanzitutto adesso minecraft sarà influenzato da un nuovo parametro ovvero la fortuna o sfortuna nel caso in cui il livello sia minore di zero infatti c'è questo parametro che varia da 1024 a meno 1024 siete incredibilmente sfortunati e andrà a modificare i contenuti dei chest una volta che li aprirete i drop dei mob quando li ucciderete e anche la roba che pescherete quindi il parametro fortuna è andare in qualche modo a influenzare parecchio le vostre scampagnate nei boschi nel mare e sotto terra questo fa sì che adesso tutti i vari chest abbiano una diversa tabella di loot questo significa che quando vengono generati iniziano a prendere della roba casuale in base a delle tabelle uniche per ognuno dei tipi di chest esistenti quindi abbiamo una tabella unica per i bonus chest una unica per quelli delle rovine per quelli dei dungeon con la muffa e gli spawn e per i templi del deserto non troverete quindi esattamente la stessa cosa noi abbiamo scelto di andare un pochino in giro per il mondo per prendere alcuni esempi e abbiamo trovato per esempio questi quattro chest guardate questi sono su una piramide qui vicino mica male tra l'altro addirittura questa è un po' peggio poi in una golden apple c'è un mending quindi guardate il mending è così buono che il resto degli oggetti non è granché quindi in qualche modo sono stati molto ribilanciati in modo da avere spesso dei chest che non sono esageratamente potenti ma neanche esageratamente brutti esatto ovviamente tutto dipende da questo nuovo parametro questo invece è il primo di quattro che abbiamo cercato nei dungeon quelli con gli spawner quadrati con i zombie guardate abbiamo quindi tanti oggetti interessanti tra l'altro guardate che bello questo è un minecart con i chest delle rovine abbiamo trovato tutti questi binari diversi qui abbiamo un bel bonus chest che adesso conterrà sempre un'ascia un piccone degli roba di legno varia e del cibo di vario tipo magari anche un salmone che è la grande novità di questa snapshot per iniziare fin da subito a godersi la vostra avventura su minecart quindi attenzione quando andate in giro perché vi troverete tanti oggetti differenti in base anche al vostro stesso parametro fortuna che potrete modificare grazie alle pozioni della fortuna ovviamente ne esistono di tutti i tipi e quando lo otterrete avrete questo simpatico quadrifoglio mentre se siete particolarmente sfortunati troverete lo stesso quadrifoglio ma questa volta con la faccia da wither stampata sopra a proposito di pozioni da adesso in poi voi potrete creare le tip ed arrow ovvero queste frecce qua che prima non erano craftabili facendo come... beh innanzitutto dovete essere in survival perché abbiamo visto che in creative non funziona lanciate la pozione che vi interessa per terra e a quel punto sparateci delle frecce in mezzo a questa nuvoletta di particelle in fretta possibilmente vediamo un po', guardate alcune non hanno centrato il bersaglio e sono rimaste frecce normali altre si sono trasformate in frecce della fortuna prova di nuovo lancia, va in mezzo quindi più o meno deve cercare di beccare il centro della nuvola di effetto vediamo un po', guardate ne ho 4 di Arrow Generation date un'occhiata alla particolarità vedete, la lingering potion di partenza dava un effetto di 22 secondi la singola freccia invece dà di 11 secondi quindi è comunque un effetto di durata più scarso, più ridotto rispetto a quella di partenza abbiamo tra l'altro anche una pozione che probabilmente andrà sistemata che si chiama Uncraftable Potion non ha effetto e non si può neanche craftare appunto al momento è più o meno come un Magikarp, non serve a niente esatto, vedremo se in futuro avrà del potenziale e cose del genere e poi abbiamo anche altre cose che prima non erano craftabili ora lo sono per esempio la Land Road ovvero queste strane colonnine che si trovano nelle End Street e adesso con una Blaze Road e un Popped Chorus Fruit potrete ottenerne 4 alla volta invece abbiamo anche un nuovo oggetto craftabile ovvero l'End Crystal questo è un cristallo che come potete vedere è molto simile a quelli che dovete distruggere quando andate a cercare di attaccare il drago ma vi serviranno per respawnare il drago se vi ricordate in passato era necessario creare invece di statua di Creeper adesso invece hanno detto per creare vi serviranno almeno 4 di questi End Crystal che si craftano con 7 blocchi di vetro una Ender Eye e una Ghast Tear quindi è assolutamente importante cercare di ottenere questi oggetti se volete avere più scontri con il drago un po' di caccia al mob quindi e poi andremo a vedere in azione questa cosa inoltre abbiamo avuto anche delle piccole cambiamenti quanto riguarda le mele questa è tornata ad avere Generation 2 come era un tempo quindi positivo e nel bene o nel male vedrete voi nei commenti cosa ne pensate questa mela incantata la mela d'oro di nocce di cui sempre si è parlato non è più craftabile non potrete più craftarla quindi anche l'achievement finale che è overpowered che vi dice appunto dovete craftare la mela incantata non sarà più possibile ma verrà cambiato in dovete trovare la mela incantata infatti alcuni di questi chest potranno contenere già una mela incantata e sarà l'unico modo in survival lecito per ottenere le mele più potenti di Minecraft e una cosa secondo me molto molto bella è questa che vi stiamo per far vedere Assassin's Creeper sì ora io mi metto in game mode zero per farvi vedere a chi è già andata guardate sono in cima al mondo sotto invece solamente questi pezzi di fieno ma mi hai tirato in alto sei una persona cattiva non era così che dovevamo fare il test ops scusa dovevo scendere più piano più piano non mi si tirano le colpi gentaccia guardate sono rimasto vivo con mezzo cuore questo significa che ero arrivato al massimo livello di altezza senza oltre la quale altrimenti sarei morto come avete visto io non avevo alcun tipo di armatura altrimenti saresti morto ancora più tardi esatto io avevo alcun tipo di armatura non avevo alcun tipo di potenziamento non avevo alcun tipo di niente eppure mi sono in qualche modo salvato questo perché grazie al fieno d'ora in poi voi potrete arrivare a un'altezza molto maggiore rispetto al passato senza morire ovvero ben 100 blocchi guardate 100 blocchi è il massimo auspicabile senza armature perché adesso i blocchi di fieno attutiranno il colpo e vi daranno un danno solamente pari al 20% rispetto a quello che invece vi sareste presi normalmente quindi un po' come l'Assassin's Creed se vi lanciate lì dentro vi fate molto meno male infatti adesso potete saltare e cadere a un'altezza circa quindi 5 volte superiore a quella a cui eravate abituati a fare in passato molto interessante come scelta anche per dare un'idea di parkour e di dare un senso di lanciarsi sempre nell'acqua adesso potete lanciarvi anche sui mucchi di fieno come novità ancora possiamo notare che il calderone adesso l'acqua nel calderone la potete in qualche modo prendere solo sicuramente se il calderone è pieno ma stavo usando il bagno e vabbè poi ti cucini ma no purtroppo non si può ancora mettere il latte potete fare un bagno rigenerante nel latte ma immagino sarà una delle prossime snapshot sicuramente non penseranno ad altro e altra cosa interessante è che prima quando vi davate un qualche tipo di potenziamento e qualche tipo di effetto appariva sempre in alto a destra ma qualunque cosa succedesse invece adesso se è un effetto segreto voi potete evitare che si noti quindi se per esempio mi do una regeneration di 10x10 e dico che è invisibile a quel punto come vedete si vede night vision che Kira mi ha passato ma non si vede la regeneration in qualche modo si potranno dare degli effetti senza dare troppo nell'occhio però fai comunque le bollicine eh si faccio le bollicine per quanto riguarda night vision ma non quella per quanto riguarda la regeneration infatti adesso guardate di nuovo mi do la regeneration niente bollicine niente come se fosse tutto nascosto il sole sta chiarando nooo quindi sta finendo una snapshot ma in realtà non è ancora finita prima che questo sia troppo tardi lanciamoci nel dream per andare contro il maledettissimo drago sarà uno scontro molto difficile uno scontro che molto eh durerà e nessuno saprà come andrà a finire oppure addio drago muore non è stato facile qui ma come c'è un piccolo command block qui che ci è stato d'aiuto adesso infatti quando ucciderete il drago e veramente avrete potuto in realtà avreste dovuto distruggere tutti questi comunque anche se lo distruggete non importa fate finta che siano distrutti fate finta che siano distrutti comunque vedete sono diversi perché questi qua normali non hanno la base come quegli altri di ossidiana no non è anche la gabbia fortunatamente attenzione che possono essere appoggiati solamente su eh ossidiana o bedrock quindi non potrete appoggiare da nessun'altra parte per respawnare il drago dovrete metterli almeno uno per lato potete anche metterli 18 non avrebbe senso ma almeno uno per lato possono essere esattamente al centro quindi in questo modo oppure potrebbero anche messi essere messi storti non importa qualunque cosa facciate potete mettere 100 basta che appena le metterete almeno uno per lato quindi uno anche qua inizieranno a partire e rigenereranno il drago e non solo il drago ovviamente ma anche i cristalli anche i cristalli guardate questo oggetto questa specie di raggi sta andando a ricreare tutti i cristalli che stavano più e adesso dovrebbe arrivare il drago vediamo un po' da dove arriva il drago la sopra nel mezzo esatto dove convergerono tutti i raggi perfetto e questo è quanto quindi come avete visto basterà comunque mettere tranquillamente 4 uno per lato e a quel punto il drago si città uccidono ancora una volta già che ci siamo no non c'è che fatico pizzi ok morto è matto mamma mia ok si hanno usato ed è morto perfetto ed ecco quindi ne bastano 4 questo è come funziona tutto si rigenerà tutte le volte che vorrete e il crafting è fattibile alla fine dovete comunque andare a uccidere un po' di enderman ma questo si sa per trovare la fortezza ci vorrà e però dovete anche fare un salto nel nether per prendervi un pochino di gasto tia questo è quanto che possiamo dire su questa snapchat quindici speriamo vi sia piaciuta faccia per che cosa ne pensate sappiate che dovremmo essere arrivati più o meno alla fine del sviluppo per minecraft 1.9 quindi aspettatevi minecraft nuova versione probabilmente già questo novembre comunque vi teneremo aggiornati sul nostro canale vi ringraziamo tantissimo che siete con noi in questa puntata eeeeeee alla prossima con niente niente ciao